Musica Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, sono Kai Ragazzi oggi sono tornato con questo nuovo video per il primo sneak peeks del prossimo aggiornamento Allora ragazzi pochi minuti fa da quando sto parlando La pagina Clash of Clans, quella ufficiale, ha fatto uscire questa nuova immagine qua Che sarebbe il fulmine livello 7 Attualmente il livello massimo del fulmine è il livello 6 Che è disponibile solamente per noi Tahol livello 10 E ci costa ben 24.000 di Elisir Il fulmine livello 7 ci costerà ben 26.000 se non erro Il fulmine livello 7 sarà disponibile solamente per noi Tahol 10 Invece per Tahol livello 9 avranno a disposizione il fulmine livello 6 Ragazzi secondo me il fulmine livello 7 è molto molto interessante Anche se non è molto interessante È un po' un contrasenso perché diciamo che la Supercell stavolta ci ha stuzzicati veramente tantissima Perché con due fulmini distruggiamo il mortaio esattamente come prima Ma con due fulmini livello 7 distruggiamo quasi del tutto una difesa aerea maxata Perciò la Supercell ci sta stuzzicando noi utenti di inventare nuove tecniche d'attacco Inoltre ragazzi la Supercell ha aggiornato i danni del fulmine Significa che ora come ora quando non è ancora uscito l'aggiornamento Se noi buttiamo il fulmine sui draghi e sui sgheri non gli facciamo niente Dall'aggiornamento che dovrebbe uscire verso ottobre La pozione fulmine farà danno anche al drago e ai sgheri E suppongo anche ai scheletri volanti Inoltre hanno aggiornato anche dove batterà il fulmine Praticamente avete presente le saette che ora come ora quando non è ancora uscito l'aggiornamento Le saette vi fanno ta 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 un po' a caso Dall'aggiornamento in poi le saette saranno leggermente più attaccate e non cadranno in modo casuale Ragazzi sul canale americano di Galadon di Clash of Clans Attacks Hanno parlato di questo aggiornamento come se fosse una cosa epica Beh noi staremo a vedere Intanto oggi è uscito il primo Sneak Peaks che è il fulmine livello 7 Ora metto un commento mio su questo nuovo Sneak Peaks Molto interessante il fulmine livello 7 dato che con solamente 3 colpi ci distrugge ben 4 edifici Questo può facilitare moltissimo coloro che usano le truppe aerie Soprattutto per fotovola no Ditemi sotto nei commenti come volete usare questa nuova pozione e quale tecnica potete abbinarla E questo è tutto per questo video Probabilmente appena fanno uscire un nuovo Sneak Peaks vedrete sul mio canale un nuovo video Perciò ragazzi iscrivetevi, restate sintonizzati E condividete i video per farlo vedere ai vostri amici E questo era tutto Come al solito lasciate un like, un commento E noi ci vediamo al prossimo video No non è la connessione